Parte giusta! L'Inghilterra vincerà la guerra! Avete sempre anteposto i principi al progetto! Forse per questo il vostro piccolo regno sta crollando! Avevate un bel sogno! Ma non sarà mai realtà! Ce ne sono altri! Come si batte il mezzosangue? Sembra un cane rabbioso! Meglio a batterlo, amici! Prendete quei due! Attento, Connor! Ce n'è ancora! Non devono fuggire! Prendetelo! Anche l'Indiano! Hanno dei rinforzi! Fateli fuori! Quello è il mezzosangue! Circaldatemi! Dov'è, Church? Ve lo dirò! Farò ciò che volete! Ma promettete di non uccidermi!